Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come cambiare il verso di rotazione delle eliche da Probe Scene a Probe South. L'impostazione predefinita di Betaflight ed in genere degli altri firmware per droni FPV è far ruotare le eliche verso l'interno, ovvero Probe Scene. Questo significa che sia le due eliche davanti che le due eliche dietro gireranno verso l'interno. Per cambiare il verso di rotazione dovremmo intervenire su tre punti. Modificare il verso di rotazione dei motori tramite firmware degli ESC. Settare il Flight Controller con il nuovo verso di rotazione. Invertire le eliche. Prima di iniziare vi ricordo che è obbligatorio rimuovere le eliche dal modello, questo perchè dovremo modificare le impostazioni degli ESC con la batteria attaccata e c'è sempre la possibilità che i motori si avvino alla massima velocità per un qualsiasi motivo. Un'altra cosa da dire è che sebbene il verso di rotazione dei motori possa essere cambiato anche da Betaflight, in questo tutorial vi farò vedere come farlo direttamente dal configuratore degli ESC. Questo perchè non tutti i firmware potrebbero supportare questa feature, così come non tutti i modelli di ESC potrebbero essere in grado di cambiare la rotazione con questo metodo. Di sicuro agire dal configuratore degli ESC è una scelta che funziona sempre, quindi è preferibile procedere in questo modo. Iniziamo quindi dal configuratore degli ESC, qui dobbiamo distinguere subito tra ESC BL-Eli32 ed ESC BL-EliS e varianti. Partiamo con ESC BL-Eli32, in questo caso vi serve la BL-Eli32 Suite, in descrizione vi lascio questo link per scaricarla, si tratta della versione ufficiale e il file a scaricare è questo. Una volta avviato il programma apparirà questa schermata, a questo punto quindi dopo aver rimosso le eliche posso collegare la batteria. Adesso scelgo la porta COM del flight controller, quindi clicco su connetti, poi su read setup. A questo punto dovremo cambiare ogni singolo motore invertendo il suo senso di rotazione, quindi i motori che sono reversed andranno messi in normal, e i motori che sono in normal andranno messi in reversed. Ora deseleziono tutti i motori e lascio solo il numero 1. Quindi visto che qui ho il reversed lo cambio in normal. Poi faccio write setup. Ora seleziono il motore numero 2 ed ho reversed. Quindi write setup. Continuo lo stesso procedimento per i motori 3 e 4. per i motori 3 e 4. Ok ho finito, adesso tutti e 4 i motori girano nel verso opposto rispetto a quello di prima. Passiamo ora al caso di ESC BLLIS e Varianti. Le versioni più usate in assoluto sono BLLIS originale e BlueJ. In questo caso usiamo il configuratore online, andando nel sito esconfigurator.com. Anche questa volta mi assicuro di aver rimosso tutte le eliche e collego la batteria. Poi vado su connetti. Quindi clicco su read settings. Come abbiamo detto questo configuratore è specifico per BLLIS originale e BlueJ. Tuttavia se usate J-ESC, Jets Maverick o BLLIM, l'interfaccia è precisa ed identica a questa. Quindi voi usate il configuratore del vostro firmware e fate i passaggi come li faccio io. Anche questa volta cambio tutti i REVERSEED in NORMAL e i NORMAL in REVERSEED. Quindi clicco su WRITE SETTINGS. Ok, ora posso disconnettermi. Molto bene, abbiamo visto come muoverci su ESC BLLIS e BLL32. Tutti i prossimi passaggi saranno uguali a prescindere dal tipo di ESC che state usando. A questo punto passiamo alla configurazione di Betaflight, in quanto non basta solo cambiare il verso di rotazione dei motori ma bisogna anche settare il Flight Controller per lavorare correttamente col nuovo modo. Qui le impostazioni sono molto semplici, andiamo nella schermata dove è riportata la configurazione dei motori e spuntiamo Motor Direction is Reversed. Poi salviamo. L'ultima cosa da fare è rimettere le eliche tenendo in considerazione il nuovo verso di rotazione dei motori. Quindi mettiamo le eliche che girano in verso orario nei motori 2 e 3. E le eliche che girano in senso anti-orario nei motori 1 e 4. Perfetto, a questo punto abbiamo finito, possiamo andare a volare con i motori che girano nel nuovo verso. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso i link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Ciao! 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 Ciao!